Riunione di coordinamento questa mattina in prefettura per gestire l'arrivo di profughi ucraini sul territorio del VCO. Da ieri ci sono già state le prime richieste di visto temporaneo da parte di persone fuggite dalla guerra che si sono presentate alla questura. Si è parlato delle procedure da adottare anche delle regole di contenimento covid per vaccinati e non. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti della comunità ucraina nel VCO e dei consorsi dei servizi sociali. Per quanto riguarda Verbagna ancora non si sa quante persone potrebbero arrivare. Si stanno valutando situazioni di ospitalità diverse da quelle in famiglia che fino ad ora è stata messa in atto nelle altre città. Abbiamo strutture già disponibili come i CAS esistenti e potremmo accogliere chi arriva all'ostello, alla Sacra Famiglia, negli alloggi del gruppo Abele. Vedremo passo per passo, commenta il sindaco Silvia Marchionini, importante che ci sia un coordinamento per gestire l'accoglienza.